... Intanto potete caricare la presentazione. Sono veramente molto contento di essere qui per la prima volta allo Sharebooks Festival e ringrazio ovviamente Luisa, l'organizzazione un posto bellissimo e ci si sente veramente a casa e quindi volevo iniziare questi due giorni di presentazione con il mio contributo che deriva da un movimento che sta crescendo da vari paesi, da varie culture e che si chiama Solar Punk da dieci anni circa il termine è stato coniato da una gallery su Tumblr poi è diventato tante altre cose diverse che vi racconterò nel corso di quest'ora la prossima intanto chi sono? sono uno scrittore di fantascienza da circa 15 anni mi occupo quindi di futuro di innovazione, tecnologie sia come autore quindi ho vinto due premi Urania un paio di premi Italia sono stato tradotto in inglese in cinese, in varie lingue e poi da circa 7-8 anni anche come editore di Future Fiction Future Fiction è una piccola casa editrice una realtà indipendente che vuole cercare di decolonizzare il futuro un concetto molto profondo difficile e complesso attraverso una serie di narrazioni che vengono da altri paesi altre culture perché tradizionalmente la fantascienza viene pubblicata da una lingua l'inglese, da una cultura quella americana da un tipo di autore bianco, maschio, americano e quindi il futuro mi è sembrato sempre molto più ampio molto più vario molto più diverso è molto più inclusivo di quello che invece in realtà l'editoria mainstream ci ha proposto negli ultimi 80 anni quindi il solar punk si innesta anche in questa visione di trasformazione del nostro immaginario attraverso, primo passaggio la rimozione di quello che è oggi il nostro immaginario cioè un adattamento una rivisitazione o anche una presa di coscienza di quelle che sono gli alimenti con cui è stata nutrita la nostra immaginazione se andiamo alla prossima c'è davvero bisogno di un altro punk il punk nasce come sapete insomma intorno agli anni fino agli anni 70 80 ha delle sue caratteristiche molto specifiche nello specifico del nostro genere della fantascienza forse avrete sentito parlare sicuramente del cyberpunk avrete sentito parlare dello steampunk e poi ci sono altri punk minori diciamo l'atom punk il silk punk il clock punk l'atom punk ma tutti questi punk derivati in realtà non hanno quello spessore politico e quella visione programmatica che adesso vi racconterò attraverso il solar punk quindi sì c'è veramente bisogno di un altro punk la prossima la prossima quindi questa è tendenzialmente una definizione ne esistono tante di che cosa è il solar punk un movimento nella narrativa di speculazione nell'arte nella moda e nell'attivismo che prova a rispondere alla domanda come sarebbe una società sostenibile e come fare per raggiungerla la definizione non importa perché poi vedrete di che cosa è composto questo questo fenomeno e questo movimento la prossima per arrivare all'oggi c'è bisogno di fare un passaggio diciamo precedente clicca ancora come siamo arrivati qui attraverso la prima e la seconda rivoluzione industriale la forza umana è stata trasformata in forza macchina quindi vedete che gli uffici di un tempo o le strade di un tempo erano popolate da persone o da animali oggi attraverso la digitalizzazione la terza rivoluzione industriale sta portando ad una trasformazione radicale cioè le competenze umane si stanno automatizzando e quindi le fabbriche e gli uffici non sono più pieni di uomini e di persone ma di macchine la prossima come potrebbe essere il futuro ancora avanti si sta avvicinando la quarta rivoluzione industriale cioè la digitalizzazione del cervello umano quindi attraverso big data intelligenza artificiale e iot che è internet delle cose sta arrivando uno scenario molto inquietante per certi versi ma se utilizzate con criterio e in maniera aperta e diciamo inclusiva queste tecnologie in realtà possono affrancare intere popolazioni o affrancare diciamo strati di persone che sono sempre rimaste escluse da alcuni diciamo fenomeni o da alcuni diritti per cui questa è un'ipotesi futura cioè una mia estrapolazione che potrebbe essere potrebbe avvenire attraverso una rivoluzione peer to peer cioè il fatto che le persone comunichino e condividano tra loro dati e informazioni bypassando quella che è la intermediazione di persone istituzioni economie che di fatto non danno niente di valore aggiunto alle persone ma anzi sottraggono quindi potrebbe esserci una società dove stampa stampa 3d se avete sentito gli artisti digitali open source e ubiquitous computing cioè computazione distribuita cambiano radicalmente lo scenario come lo cambierà questo non lo sappiamo però la fantascienza si occupa di mappare possibili scenari che vanno dalle distopie estrema a una possibile utopia avanti andiamo avanti ok se vi ricordate la scena di apertura di quel film lì iconico Blade Runner la scena di apertura dice Los Angeles novembre 2019 il futuro è passato ok quella scena di apertura segna una incredibile spartiacque nel nostro immaginario Ridley Scott immagina un futuro cupo distopico inquietante totalmente in mano alle grandi corporazioni dove gli uomini sono parte di una narrazione che in realtà viene portata avanti dagli androidi sono la nuova razza emergente e quel futuro lì è poi rappresentato da un bellissimo graffito di Banksy no future cioè l'estrapolazione del pensiero tacceriano there is no alternative questo è il migliore dei futuri possibili adattatevi o morite quella narrazione lì è quello che oggi di fatto è la nostra realtà noi viviamo nel cyberpunk quando a Hong Kong le ribellioni diciamo le sommosse vengono intercettate con le telecamere di sorveglianza e le persone utilizzano i led per non farsi tracciare siamo nel cyberpunk e soprattutto c'è questa inversione dove i buoni sono cattivi e i cattivi sono buoni per cui un grande capitano di industria come Mark Zuckerberg che vende i dati delle persone alle aziende viene celebrato come un businessman mentre Julian Assange che dà i dati delle corporation a noi gratis è in carcere questa inversione è tipica della distopia cyberpunk i buoni diventano cattivi e i cattivi diventano buoni avanti quindi come gira il sistema operativo del cyberpunk e della nostra realtà questi sono alcuni indici economia ovviamente capitalismo proprietà privata multinazionali energia la natura considerata come un bene gratuito i combustibili fossili il famoso PIL il prodotto interno lordo che ancora vogliono venderci come misura della ricchezza di un paese ambiente lo sprawling cioè questa urbanizzazione continua serrata senza fine l'inquinamento elettronico la deregulation la gentrificazione tutti i fenomeni che conosciamo bene il lavoro come gestito alti profitti bassi salari geosfruttamento cioè il capitalismo va là dove i costi sono più bassi e estrae 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 come potrebbe essere il futuro la prossima ancora clicca vai gli stessi identici indici potrebbero avere una connotazione leggermente diversa cioè utilizzando creative commons utilizzando cooperazione utilizzando il peer to peer utilizzando un sistema diverso di misura della ricchezza attraverso per esempio l'HD cioè lo human development index che non tiene in considerazione soltanto il numero di frigoriferi che vengono prodotti ma anche altri elementi come il livello di alfabetizzazione il livello di scolarizzazione i diritti delle minoranze tanti elementi che concorrono a una ricchezza di concezione più ampia che non quella semplicemente monetaria le comunità resilienti l'impronta ecologica l'economia condivisa ovviamente non quelle di Airbnb e di Uber ok quelle sono multinazionali che sfruttano esattamente nello stesso modo gli algoritmi e quindi andiamo anche avanti come uscire dalla distopia ovviamente non è semplice costruire un ponte tra il mondo in cui siamo oggi e una possibile diciamo visione alternativa ho cercato di utilizzare delle formule questo è un altro bellissimo graffito di Banksy che dice da questo momento la disperazione finisce e comincia la strategia di questo parleremo di strategie perché di fatto il tempo della osservazione della riflessione della comprensione è finito sappiamo nomi cose persone sappiamo tutto quello che ci manca è la capacità di coordinarci e reagire e agire anche in controtendenza in controfase rispetto a quello che il sistema vorrebbe andiamo avanti perché perché questi semi in realtà sono già stati sparsi nel tempo da tanti fenomeni da tanti movimenti da tante comunità che hanno già tracciato una linea il solar punk non nasce oggi ma si innesta su un tracciato che come vedete include i Fridays for Future include il Sunrise Movement include il Bird Strike include il Grey New Deal Extinction Rebellion We Are 99 No Profit On Pandemic che ovviamente è l'ultimo cioè l'idea di continuare a mettere questi brevetti sopra i vaccini e non distribuirli gratuitamente a chi ne ha bisogno quindi non è una cosa nuova ma utilizza ragionamenti e strumenti come vedremo che già in parte sono stati sviluppati per fare un ragionamento più compatto e coeso alla prossima ora questa è una slide molto importante perché il solar punk corre il rischio fortissimo così come è stato per il cyberpunk di essere appropriato di essere preso e trasformato in un bellissimo film tipo Matrix cioè quello che il cyberpunk aveva nella sua carica rivoluzionaria nella sua carica di opposizione di critica al sistema è stato poi estetizzato anestetizzato è stato reso un prodotto del capitalismo del tardo capitalismo da rivendere la maglietta fuck the system su amazon questo vuol dire vuol dire appropriarsi e rivenderti la tua idea di protesta quindi che cos'è il solar punk che come fa il solar punk a eludere questi tentativi di greenwashing no di una bella passata di verde passa la paura no una passata di verde e l'ambientalismo diventa un altro prodotto da mettere a scaffale il pensiero di sinistra vede la natura come qualche cosa di elitario cioè l'uomo è l'origine della colpa la natura era pura incontaminata quindi dovremmo rimuovere l'uomo e la natura tornerebbe a un suo stato di grazia immaginatevi le prime scene della pandemia quando vedevamo le città dove tornavano i cerbiatti dove tornavano a Roma pure i cinghiali però diciamo la natura che si riappropriava degli spazi che erano stati occupati brutalmente dalla razza umana quello è il pensiero di sinistra che non prevede diciamo una cooperazione una collaborazione con la natura ma anzi vorrebbe creare gli zoo vorrebbe creare i parchi vorrebbe creare delle zone riservate dove la natura può essere se stessa senza di noi dall'altra parte a destra il pensiero vuole che l'uomo abbia la responsabilità di migliorare e che possa farlo attraverso l'ingegno e gli strumenti dell'evoluzione migliorare la resa per esempio agricola migliorare l'ambiente piegarlo ai propri bisogni e quindi renderlo qualche cosa di migliore o di migliorativo quindi vedete che l'idea di ecoefficienza e di tecno-soluzionismo cioè il concetto per cui dato un tempo abbastanza lungo qualunque problema verrà risolto dalla tecnologia non c'è bisogno di preoccuparsi l'uomo è in grado di risolverlo ora ho usato questi esempi il bosco verticale viene venduto come una soluzione green a Milano peccato che costa 14.000 euro al metro quadro e quindi non è proprio una soluzione per tutti ecco di fatto non è solar punk è solo l'ennesimo tentativo del capitalismo verde di venderci una soluzione il solar punk è in mezzo cioè attraverso l'innovazione nativa l'innovazione nativa è la capacità dei singoli popoli di utilizzare la propria saggezza la propria cultura e fare con quello che hanno lì quello che serve loro per andare avanti e l'ecologia dei poveri cioè i poveri non hanno mai inquinato a meno che ovviamente non erano inseriti in un contesto di degrado ma sfido chiunque a dimostrare che le tribù dell'Amazzonia hanno un impatto ecologico non ce l'hanno non possono averlo perché utilizzano tutto quello che è già naturale quindi il solar punk cerca di unire questi elementi l'umano e il naturale in una forma sostenibile sostenibilità di lungo periodo non di breve periodo quindi cercare di non distruggere il capitale naturale e di renderlo sostenibile in un periodo molto lungo la prossima ovviamente il solar punk non è l'ultimo trend o prodotto da vendere attenzione quindi fate sempre attenzione a chi detiene i mezzi di produzione di quel tipo di solar punk nel caso del bosco verticale è abbastanza chiaro avanti anche la prossima ok i pilastri i pilastri sono quattro tendenzialmente ma possono essere di più poi ognuno ha la sua visione e questo è il bello io personalmente ho individuato questi cioè la biomimesi biomimesi vuol dire imitazione dei fenomeni delle strutture degli schemi che la natura ha sviluppato nel corso di milioni di anni quindi potremmo utilizzare questi schemi imitandoli anche copiandoli per un bene per un fine più alto un altro elemento è la sostenibilità abbiamo già i mezzi per poter fare cose incredibili ad esempio le bottiglie di plastica commestibile in modo che non dobbiamo buttare via la plastica ma plastica commestibile che si può mangiare insieme all'acqua che beviamo oppure potremmo costruire una bellissima griglia accanto alle autostrade che alimenta le autostrade stesse in Cina hanno cominciato ad utilizzare dei piccoli tulipani che ruotano in senso orizzontale che sono ovviamente spinti dall'area delle macchine che passano e quindi messi come tante piccole vertebre lungo il guardrail producono energia gratis nel senso che la turbina muove si muove e quindi crea energia non nelle grandi paleoliche che magari deturpano il paesaggio ma utilizzando queste piccole strutture micro è meglio oppure forni forni solari per le popolazioni in Africa insomma ci sono tante soluzioni avanti alla prossima vai clicca ancora che sono un po' altri elementi sono l'economia circolare ma da sé questo già si sa insomma avete già visto magari in alcune città lo sviluppo degli orti urbani lo sviluppo di queste comunità che cercano di produrre cibo a costo zero a chilometro zero scusate senza spedire le arance e i kiwi da una parte all'altra del mondo ma utilizzando quelli che sono dei prodotti che hanno perso il loro nome i prodotti stagionali io ho 50 anni mi ricordo una volta esistevano i prodotti di stagione adesso i prodotti di stagione non esistono più abbiamo tutto in ogni istante da qualunque luogo questo ha un costo ambientale enorme insostenibile e andrebbe cambiato questa è una modalità per farlo inoltre la resilienza delle comunità se un'autostrada passa attraverso un paese o un villaggio ci sono persone che cercano di costruire ad esempio dei ponti verdi per far sì che gli allevamenti o gli animali possano o le persone ovviamente continuare a passare da una parte all'altra oppure la famosa autonomia energetica riuscire a creare questi installare nel proprio giardino per comunità che ce l'hanno e hanno la possibilità di farlo anche in crowdfunding utilizzare questi girasoli bellissimi che creano e producono energia solare avanti ci sono altri altri due elementi importanti uno è l'inclusività radicale cioè l'idea che appunto le narrazioni non debbano essere quelle degli uomini bianchi americani privilegiati ma ovviamente abbiano una esista anche un ascolto una comprensione di tutte quelle storie che vengono da altre lingue da altre tradizioni tradurre è uno di questi meravigliosi strumenti per conoscere altri mondi per conoscere altre realtà lo stesso vale per la tecnologia se una tecnologia ad esempio la stampante 3D vi ricordate forse tutti Oscar Pistorius l'uomo che da handicappato è diventato superman attraverso delle lame che gli permettevano di correre molto velocemente se queste tecnologie non sono appannaggio di tutti rischiamo di non averle ricreare di solito nuovo problema di discriminazione mentre invece dovrebbero essere utilizzate a basso costo quindi esistono gruppi che stampano protesi 3D per persone che non potrebbero altrimenti averle avanti va bene avanti ok quest'altro elemento è molto interessante se vedete di nuovo gli ziggurat di Blade Runner l'aria condizionata è un charger era un alimentatore e sotto vedete qualcosa di simile ma fatto dalle popolazioni locali cioè quello è venduto come moderno contemporaneo tecnologicamente avanzato quest'altro è considerato arretrato di fatto parliamo della stessa cosa cioè assolvono la stessa funzione ma uno è molto futuribile nella loro visione l'altro invece è considerato paese in via di sviluppo terzo mondo cose di questo tipo quindi il modo in cui viene comunicato fa tutta la differenza stessa cosa questa è un'università moscovita quest'altro è un palazzo in Africa quella è Abu Dhabi e quella è un paese un villaggio in Africa cioè uno è considerato civilizzato moderno l'altro arretrato di fatto vedete sono la stessa cosa avanti e poi arriviamo alle culture da dove deriva il cyberpunk e da dove deriva il solarpunk il cyberpunk deriva dalle culture raver dagli anni 90 dal grunge dalle feste tecno dove di fatto questo elemento del elettronico cyber ha il il suo punto di forza dall'altra parte le sottoculture del solarpunk derivano da movimenti come il burning man come l'activism ok cioè il fatto che cioè di fatto anche nel cyberpunk c'era questo cioè aprire le tecnologie appropriarsene cambiarle modificarle e poi abbiamo Extinction Rebellion e Fridays for Future di cui vi ho già parlato avanti ok da un punto di vista estetico anche c'è una una cesura molto forte se nel cyberpunk ricordate sempre ambienti cupi inquinati notturni diciamo che attengono a queste correnti dell'architettura uno è il brutalismo e l'altro il funzionalismo quindi cemento cose molto pesanti dall'altra invece il solarpunk ha un'estetica che rimanda all'art nouveau l'art nouveau dei primi anni del novecento anche in parte all'art déco ma introduce anche tutti gli elementi legati alla cultura africana e alla cultura asiatica quindi include elementi che normalmente non sono mai stati considerati dall'architettura moderna o dall'estetica moderna ne vedremo altri esempi avanti vai vai ok qui è solamente una combinazione di idee come per dirvi che non si inventa nulla di straordinario ma attraverso un po' di ingegneria si riesce a creare delle soluzioni interessanti per esempio usando il fotovoltaico e le urban farm si può creare l'agrivoltaico cioè si è visto che mettendo i pannelli solari sopra i campi i campi ne beneficiano appunto perché c'è l'ombra ma c'è un effetto ovviamente di miglioramento delle rese stessa cosa per il guerriglia gardening che è l'unione del gardening del giardinaggio e della guerriglia ma utilizzare questi elementi per rendere la città un po' migliore da un punto di vista estetico riprendendo gli spazi che sono stati abbandonati dal capitalismo che il capitalismo non reputa redditizi e quindi riportarli in mano alle persone o ai ragazzi alle comunità che possono utilizzarli avanti ok e questa diciamo è la stessa tranquillo è la stessa cosa è nuovi altre modalità vai pure avanti vai avanti ecco questo è quello che vi dicevo prima muline a vento e lampione pensate a come potrebbe essere installare una turbina floreale l'ho chiamata io al posto dei lampioni o sopra i lampioni in modo da generare elettricità per il quartiere per la città basterebbe veramente poco e non è così invasivo come una grande pala eolica insomma avanti dal punto di vista anche qui dell'estetica vedete due approcci molto diversi nel cyberpunk la narrazione è sempre tendenzialmente maschile maschilista vedete sempre degli uomini ben corazzati vestiti come se fossero pronti a combattere con zip con giubbotti con tasche con occhiali a specchio pronti per la lotta urbana dall'altra parte invece l'estetica solar punk prevede personaggi femminili personaggi che si prendono cura di altri con elementi del tutto diversi rispetto alla narrazione precedente molto più patriarcale lasciatemi dire vai va bene qui diciamo vai avanti questa è una cosa che vai pure avanti vai pure avanti ok di fatto noi vediamo abbiamo visto questa prima ondata di grande cambiamento cioè il covid ma quello che ci aspetta è forse anche peggiore lo stiamo vedendo la recessione e lo stiamo vedendo come terza ondata che sta arrivando il cambiamento climatico quindi se non cambiamo la modalità in cui produciamo distribuiamo le merci e distribuiamo anche il valore ovviamente il rischio è fortissimo che non ci sia più diciamo la reversibilità che i cambiamenti climatici siano talmente ampi da renderci la vita su questo pianeta molto difficile quindi si parla di antropocene ma in realtà come vi dicevo prima non tutte le comunità impattano nello stesso modo le tribù dell'Africa o dell'Amazonia o dell'Indonesia non hanno impatto ecologico non hanno quegli strumenti del capitalismo in grado di trasformare il territorio il commercio in maniera così pervasiva e quindi da poco purtroppo ma si preferisce parlare di capitalocene cioè è soltanto dal momento dell'industrializzazione avvenuta nel 1800 che le fabbriche la modalità di produzione del capitalismo ha accelerato tantissimo l'impatto della razza umana quindi non è l'uomo in sé chi parla di è colpa dell'uomo non è vero non è colpa dell'uomo è colpa del sistema economico del sistema industriale che attualmente gira come sistema operativo del pianeta che è il capitalismo perché ci sono comunità che non hanno nessun impatto vai perché che succede se avete sentito parlare di questo famoso cigno nero black swan cioè è un evento talmente imperscrutabile talmente fuori dalla nostra capacità di comprensione tipo l'asteroide che colpisce la terra che noi non lo consideriamo nella nostra normale vita quotidiana non ci alziamo la mattina pensando oddio dov'è l'asteroide quanto tempo mi resta no sono eventi cosiddetti da cigno nero cioè capitano rarissimamente però esistono eventi chiamati rinoceronte grigio che invece noi vediamo il rinoceronte grigio è un animale che ti punta e tu lo vedi che comincia a montare comincia a caricare lo vedi arrivarti dritto e tu non fai nulla tipicamente è il coronavirus l'abbiamo visto lo sapevamo perché c'era stata la 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 viaria c'era stata la mucca pazza c'erano stati dei segnali nonostante questo non abbiamo fatto nulla è un fenomeno che noi associamo alla negazione cioè neghiamo che questa cosa non ci capita no come dicevano stancina non arriverà mai qua no oppure per ignoranza i novax diciamo no dall'altra parte esistono fenomeni che sono in mezzo a noi tutti i giorni e che noi non consideriamo io ho rappresentato attraverso il gorilla albino tutte le minoranze etniche tutte le persone che hanno una diciamo diversità qualunque essa sia e che in quanto tale noi consideriamo così come mancanza di di diritti no se noi riuscissimo a includere tutte queste narrazioni tutte queste identità nella nostra immaginazione nella nostra immaginazione nella nostra capacità di comprendere accettare e di prenderci cura del diverso noi saremo preparati al rinoceronte saremo in grado anche di capire il cigno nero avanti perché sappiamo esattamente dove no no tranquillo va benissimo sappiamo esattamente i nomi di tutti quelli che contribuiscono al cambiamento climatico se vedete i paesi sono deformati in base alla loro capacità di inquinare come vedete alcuni sono quasi inconsistenti come l'Africa perché di fatto non hanno impatto nell'inquinamento e quindi la giustizia climatica passa attraverso la decolonizzazione se non siamo in grado di colpire di dare assegnare una responsabilità a queste entità a queste istituzioni a questi stati a volte sono appunto sovranazionali come le corporazioni non saremo in grado di risolvere il problema secondo me o almeno sarà molto difficile avanti va bene questo va avanti qui diciamo che il solar punk utilizza delle idee che sembrano di fantascienza ma in realtà potrebbero essere molto più vicine molto più prossime di quanto pensiamo e quindi sono degli esempi di mobilità sostenibile da una parte ma sopravvivenza sostenibile quelle sono le famose tute distillanti di dune non so se avete visto il film quando i cambiamenti climatici diventeranno imponenti oppure organi artificiali oggi già si possono stampare degli organi artificiali per sopperire a delle carenze oppure la fotosintesi artificiale che è un'altra modalità molto fantascientifica ma che già sta arrivando anche in forma di prototipazione industriale anche qui architettura sostenibile soprattutto per fare fronte ai disastri ambientali che più e più arriveranno nei prossimi anni case stampate in 4D dove la quarta dimensione è il tempo quindi così come un seme ha al proprio interno la formula per diventare una pianta allo stesso modo un mattone potrebbe avere al proprio interno la formula per diventare una casa quindi parliamo di fenomeni futuribili però che già sono in fase di realizzazione avanti ok ecco questa è una una contrapposizione proprio chiara tra ecosistemi cyber e ecosistemi solar lì vedete il paradigma del cyberpunk è low life high tech cioè di solito è un nerd un geek una persona che ha delle competenze informatiche specifiche che di fatto è di solito è un reietto uno sfigato uno che sta ai margini della società però ha questa competenza che gli consente di contrattare negoziare di solito con i cattivi se vi ricordate Matrix se vi ricordate i film di questo tipo di solito l'eroe è sempre maschio è sempre in lotta con le forze di mercato vuole fare più soldi oppure vuole affrancarsi da qualche problema dalla mafia locale la narrazione è quasi sempre quella e le tecnologie sono legate a internet al cyberspace ai biochip ai database tutte cose degli anni 90 ok dall'altra parte la narrazione solar punk invece prevede un antagonista spesso è diciamo donna o lotta per ideali lotta per qualcosa di più grande del proprio portafoglio e il conflitto nasce dalla cooperazione non dalla competizione spesso c'è la resilienza femminile spesso ci sono valori etici e le tecnologie sono cloud computing augmented reality cioè realtà aumentata biomimesi internet delle cose tutti elementi che si attengono al nuovo millennio per rappresentarli ho utilizzato due videogiochi questo è cyberpunk 2077 vedete uomini belli aggressivi la donna in secondo piano ambiente fumoso notturno urbano pronti a qualche tipo di lotta dall'altra parte horizon zero dawn dove vedete la protagonista è donna in un ambiente aperto è un gioco bellissimo dove appunto la terra post apocalittica è stata distrutta ma ricostruita da un'intelligenza artificiale che si chiama gaia quindi rappresenta bene i due punti di vista alla prossima vai ok quindi se dovessimo rappresentare uno schema della narrazione solar punk e avessimo una distribuzione di storie che va dal dall'utopia dal massimo dell'utopia dall'ottimismo quindi il signore degli anelli per dire è al fantastico quindi via via andare dall'impossibile fino al probabile e poi scendere fino all'impossibile distopico negativo per esempio le cronache del ghiaccio e del fuoco di George Martin dove muoiono tutti e dove tutti sono cattivi di fatto il solar punk si posizionerebbe in mezzo cioè in una narrazione probabile altamente probabile plausibile ok vai questi sono alcuni dei testi solar punk che potete trovare in lingua inglese quindi sono delle antologie raccolte di racconti che sono stati pubblicati nel corso degli ultimi 5-6 anni c'è anche qualche romanzo il ministero del futuro è stato pubblicato da Fanucci qualche tempo fa ma non sono propriamente solar punk questi romanzi diciamo vengono un po' cooptati dal movimento o comunque vengono proposti ma non hanno ancora veramente una loro vocazione solar punk vera e propria però le antologie sì avanti su future fiction abbiamo pubblicato tante storie solar punk sia io ho scritto il primo romanzo europeo che è questo i camminatori poi ci sono due antologie di racconti tradotti da 5-6 lingue quindi dal portoghese dallo spagnolo dal francese dal cinese da tante lingue diverse perché il solar punk non appartiene a una cultura o a un solo futuro ma a più futuri e poi altri un saggio fatto da un futurologo che si chiama Harry Cunting sulla transizione verso il solar punk dei fumetti su appunto scenari lontani e vicini ma che hanno a che fare con l'adattamento climatico e poi altre antologie e il romanzo di Clara Faris che è un'attrice di fantascienza italiana molto brava se volete vedere qualche film che no scusa se volete vedere qualche film non selezionate alcuni ovviamente la principessa mononoke non è proprio solar punk è proto solar punk in qualche modo è 1997 quindi non poteva avere cognizione della lo studio Ghibli diciamo del solar punk però utilizza questi elementi legati alla natura al risveglio della natura alla identità con gli elementi naturali che sono parte del movimento interessantissimi sono gli ultimi tre cioè Pomsi che è un corto dal Kenya questo film non mi ricordo ho messo il titolo in islandese ma è Kuna contro la lotta di Kuna adesso non mi ricordo lo trovate su Netflix molto bello e poi Io che è un un film anche su Netflix americano vai vai avanti ok quindi perché essere punk oggi quali sono gli elementi che distinguono il vecchio punk originale dal solar punk e qui il punk degli anni 80 era contro l'omologazione contro il conformismo contro il consumo di massa contro lo stato ed era ovviamente anarchico e nichilista che succede che il punk degli anni 80 basava la propria forza sull'identità no le creste le borchie i vestiti di pelle questo elemento no forte dove tu riconoscevi subito un punk oggi oggi quando qualunque algoritmo può profilarci e venderci immediatamente quello che noi vogliamo essere vogliamo essere ambientalisti compriamo la maglietta vogliamo essere antisistema e non lo so possiamo appartenere a qualunque tribù il capitalismo di fatto si infila nei nostri desideri li realizza istantaneamente come fa essere punk infatti non è facile bisogna combattere la profilazione attraverso la collaborazione bisogna combattere la competizione individuale che ci vorrebbe tutte no singole isole con la propria libertà e la propria individualità e cercare di costruire un'identità collettiva condivisa più ampia e questo è la parte più difficile secondo me riuscire a mettere da parte un pezzo della propria libertà per costruirne una più ampia e quindi potrebbe essere un modo per essere punk oggi questo è una proposta ovviamente grazie e quindi ho immaginato 7D per capire se voi qua oggi siete già in parte solar punk decolonizzare l'immaginazione decarbonizzare la vita quotidiana decrescere i consumi non necessari disintermediare da ciò che non crea valore decapitalizzare l'economia questo mi piace tantissimo depatriarchizzare il controllo sociale decentralizzare le decisioni queste sono ovviamente delle proposte non è niente di esaustivo ma è una prima diciamo messa in rosso su bianco di quelle che potrebbero essere degli elementi su cui riflettere insieme e agire insieme perché ripeto il tempo della riflessione è finito si tratta di mettere in piedi delle vere e proprie strategie non so se abbiamo qualche minuto in più sì ok vi racconto solo questo per dirvi bella teoria ok però vi racconto anche una storia che è la storia di un romanzo che ho scritto negli ultimi dieci anni e per farlo ho messo tanto solar punk e tanta ricerca la storia è un gruppo di persone a Roma che entrano a contatto con una tecnologia nanotecnologia nanomacchine questo è l'unico elemento di fantascienza in grado di assemblare proteine vitamine e carboidrati che si trovano nel terreno quindi corteccia fiori terra qualunque cosa molto semplice con questa tecnologia però loro creano una si affrancano dalla propria vita fatta di lavoretti gig economy e un cibo industriale che di fatto non nutre più quando ho scritto il libro pesavo 92 chili e per circa adesso lo ripresi e per circa sei mesi un anno andavo al supermercato cercando di comprare soltanto prodotti che non avessero più di tre ingredienti credetemi è difficilissimo in un supermercato in città come Roma per cui ogni volta che giravo quest'etichetta trovavo una serie di ingredienti astrusi incomprensibili chimica cibo totalmente industriale e allora mi sono chiesto se dobbiamo mangiare questo cibo industriale questo junk food tanto vale smettere e quindi nei protagonisti di questo romanzo ho implementato questa modalità cioè loro non mangiano più tre volte al giorno ma mangiano una volta al mese come cambierebbe la nostra vita se mangiassimo una volta al mese quanto cibo in meno sprecheremmo quanto cibo in meno trasformeremmo quanto cibo in meno butteremmo quanto terreno in meno occuperemmo per fare diciamo crescere per produrre la carne che è il problema fondamentale quindi attraverso questa tecnologia questo gruppo di persone decide di lasciare il proprio lavoro di cominciare a scambiarsi le formule compositive degli oggetti se per esempio lei è brava a fare le sedie io sono bravo a fare le scarpe ci scambiamo la formula e non passiamo dal commercio o da un negozio ma creiamo un'economia peer to peer già questo oggi in parte è fattibile se conoscete gli artigiani digitali per esempio o i fab lab di quartiere che stanno aprendo un altro elemento importante è la sedentarietà noi siamo controllati attraverso il nostro codice di avviamento postale e il nostro indirizzo di fatto il modo in cui veniamo controllati è attraverso il lavoro e attraverso l'indirizzo questo gruppo di persone decide di non avere né un indirizzo né un lavoro per cui abbraccia una sorta di neonomadismo cioè noi per circa 10.000 anni siamo stati sedentari le prime città sono state costruite nella Mesopotamia circa 8-10.000 anni fa ma per un tempo molto maggiore siamo stati nomadi siamo stati in grado di spostarci in piccole comunità da un punto a un altro dove le condizioni erano migliori tra l'altro la dieta dei nomadi è migliore della nostra perché è più varia nonostante i messaggi che ci arrivano ma in realtà quando guardate quello che mangiamo gli ingredienti sono molto ridotti per cui vai alla prossima per cui queste ancora ok per cui queste persone decidono di sfuggire a questo capitalismo della sorveglianza di cui vi ho parlato prima la tracciabilità l'idea che tutti siamo parte di questo sistema capitalistico e non possiamo sfuggirne attraverso queste nanomacchine che li rendono indipendenti dall'alimentazione tradizionale e li rende in grado di camminare di tornare a fare una cosa che in città io vivo a Roma e quindi camminiamo negli spazi che ci vengono lasciati dalle macchine perché non paghiamo una tassa di circolazione e quindi non siamo più ospiti graditi nella città la città vorrebbe funzionare senza di noi la città vorrebbe diventare smart e quindi in grado di eliminare tutte quelle lentezze e quelli difetti che sono tipici della razza umana e quindi se la città non ci vuole che si fotta la città e quindi questo gruppo di persone lascia Roma e comincia a ripopolare zone che sono state abbandonate in seguito alla urbanizzazione a ritornare alla terra a ritornare verso villaggi che di fatto oggi sono deserti e questo è un romanzo di fantascienza dove però si costruiscono degli strumenti per superare i nostri limiti biologici e quindi ottenere una nuova biologia che però ci affranchi quindi ci renda autonomi e indipendenti rispetto al capitalismo della sorveglianza attraverso una serie di elementi che vabbè vi ho un po' mappato quali sono la fine del lavoro la fine della nutrizione la fine della fabbrica la fine della proprietà privata la fine della città la fine delle energie fossili cento anni fa e chiudo questo è il manifesto della fiera mondiale di Chicago lo slogan era la scienza scopre l'industria applica l'uomo si adatta ecco abbiamo visto che cosa è successo dopo cent'anni e questa è la copertina del The Economist secondo me invece lo slogan dovrebbe essere l'uomo scopre la scienza applica e l'industria si adatta dobbiamo tornare a dirigere l'evoluzione e l'economia e la nostra stessa sopravvivenza su questo pianeta se lasciamo che lo faccia l'economia o l'industria i risultati non sono dei migliori perché perché quello che la gente spera è in un futuro radioso in un futuro migliore per le nostre generazioni per il futuro spera che un po' come la rappresentazione di questa pianta che ci sia luce che ci sia humus che ci sia acqua che ci sia un bel vaso in realtà la realtà è molto diversa la realtà è competizione e lotta in un ambiente molto ostile dove le risorse scarseggiano dove dobbiamo sviluppare i nostri aculei per difenderci ma magari ogni tanto ogni primavera un fiore può sbocciare grazie se ci sono domande siamo qua è finita grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti